Hey, what are you guys? What's up, I'm going to be here and we're here for a new video and entusiasmantissimo video campaign per The Walking Dead 400 giorni So che lo stavate aspettando in tanti e mi dispiace tantissimo che ci sia voluto così tanto per poter fare The Walking Dead Dannazione, il problema poi è un altro Mi sono accorto che il terzo episodio del 400 giorni non è stato registrato bene Ergo devo riregistrarlo da capo ma l'avevo già giocato quindi se adesso andrà Andante andò Se adesso cliccassi su continua non mi prenderebbe l'episodio precedente Quindi devo cliccare su riavvolgi e fare mi sembra quello di shell Giusto? Dovrei fare così per poter rigiocare l'episodio di shell Mi sbaglio che è quello che tecnicamente è stato preso male quindi La colpa non è la mia è colpa del del Giusto? Esso? Sì, esatto Shell, giorno 236 E qualcuno di voi mi... Questi cazzi Ok L'ha fatto diventare un kill? Sta già cambiando! Sì, è già cambiato! Sì, ha disminuto le cose che si importa così facilmente! Sì, credo che hai bisogno quando hai già perduto così tanto, ma... Io ancora mi rispondo Oh, a proposito Ok, mi sono apparsi del tipo dei... Oh, sto copiando roba! Perché? Perché ora? Becca, questo è un'ottima idea! Becca, questo è un'ottima idea! Hai pensato che possiamo fare qualcosa così ogni settimana? No! Ok, io non ho scherzo, mi pare un'ottima idea! E' un'ottima idea! Magari possiamo tutti entrare su questo, come alcun tipo di show di talento giornale E' un'ottima idea, Becca! Possiamo tutti uscire un po' di musica nella nostra vita Ho mai detto che ho avuto giocare in una band? Sì, Roman, ti ho detto a noi! E' un po' di sbagliato! E' un po' di sbagliato! Ok, ok, ok In questo caso, torniamoci a lavoro! No, torniamoci a lavoro! Oh, grazie a la lavoro di Boyd's hard work in the vegetable garden, abbiamo una nuova sopa oggi! Ok, torniamoci a noi! Vuoi aiutti che mi e Shell fare la inspezione di prodotto? Cool! Guardate le lampi a questa volta, vedo le pizze. Ok... 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 Ok, ma guardatevi, le lives di persone dependono di quello. Non possiamo lasciarli sfruttare perché ci siamo fissati Sparerai il lime di proiettile alla torta Dovete aver appena inventato La morte nera Non so perché Ma ne sono alquanto convinto Quindi Rom Roman Sto ballando alla Michael Jackson Obeligine Obeligine Ok Non mi ricordo le canzoni di Michael Jackson Mi piacevano Ma non me le ricordo per niente Io sono un tipo che si scorda molte cose Tipo d'altro giorno sto parlando Con la mia ragazza Silvia Stavamo dicendo che Nessuno di noi si ricorda Quasi nessuna frase dei film C'è tipo gente che si ricorda Ogni frase dei film Tipo a memoria A manetta Però tipo Io no Io mi ricordo tipo 5 frasi Hasta la vista baby I'll be back Salutatemi il mio amico Sosa Si può fare E Credo siano 4 Cazzo Mi ricordo solo 4 frasi Dell'interno E io stavo parlando E io stavo parlando Voi ve le ricordate Tipo le frasi dei film Perché io C'è nozione Ma è disgustoso Non mi racconti con te Non mi racconti con te Tu sai La mia ragazza Lei non mi piace C'è Roman Abbiamo parlato C'è Becca non ha bisogno Con questo tipo di Occhè Mi ricorda che Dosti 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 che E se lei sa come proteggerla, è bene. Non voglio che lei non dimenticare per le persone. Ok. Che cosa è che c'è? Non lo so. Vedrò. Ho bisogno di tornare a fronte. Sto guardando quella zuppa? Quella zuppa sarà assolutamente meravigliosa. Ehi, signor Arnante, cosa sta facendo lei? Si sta facendo uno spuntino con una torta di lima e il proiettile il proiettile e la torta alla lima di torta. Oh, è vero. Si sta mangiando un piccolo peluche. No, è un peluche. No, non è un peluche. È un cucciolo di cane. È andato a cercare la mamma e non l'ha mai trovata perché la mamma è stata uccisa dagli zuppa. E quindi lui stava piangendo. Ah! Sì, un cuccio? Sì, credo che è proprio... ...che ti verrebbe di abbracciarle e poi di strangolarle forte e poi ancora di abbracciarle e poi di... No, non pensi ancora di abbracciarle, ma... ... dopo un po' ti senti... ...fumo! Sì... ...non sono un tipo da cuccioli Certo? Sì... Sì, lo sai... ...lo vedete e vuoi proteggerlo e... ...e ora è fuori... ...che' non è bello... ...che' non è bello... ...che' se Clive mora prossimo possiamo farlo da qui inizia... ...l'acqua può fare un'azienda migliore... ...e' comunque... ...Becca... ...Clyde morto anni fa... ...Chiè, Becca! qualcosa sta succedendo a fuori! ...che' è? ...non lo so, qualcosa di male! ...Nah, abbiamo trovato Roman! ... ...è arrivato Gesù! Oh! Andiamo tutti a salutare Gesù! Oh, non è Gesù! ...Gesù! ...Largami! 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 ... E non ci può fare Abbiamo perduto Brie, e poi Vernon con il tuo bambino Vernon e il bambino sono le ragazze che il gruppo fuori Non credo ai vicini Vernon fu fuori per il bambino E la seconda che lasciano il bambino in attenzione L'abbiamo scoperto Ma Vernon solo meritava Non può restare qui Non può restare qui Io concordo, mantenere qui non è un'opzione E in suo condizione Il pozzo Siamo del Texas Noi spariamo Non facciamo domande E sei straniero? POOM Sei un cane? POOM Sei dubbiosa? POOM Sei vero POOM Sei vero POOM 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 Sto diventando un po' troppo razzista qui POOM Donato Texas E fatti diventare sempre molto razzista Non ci serve Non razzista Non si rimane Non si rimane Non si rimane Anche loro Non si trago Non ce ne riesco Non riesco Non cercherò Ti chiedo di guardare, ma se facciamo questo, siamo tutti insieme. Se questo succede ancora, sarà uno di voi che prenderà questo trigger. Hai alcuni 4? No. Hai alcuni 7? Sì. Mi piace di giocare la gitarra per tutti. E' stato stupido, ma divertente. Perché non facciamo questo ancora più? Perché abbiamo sparato un uomo e siamo diventati dei mostri. C'è molto che non facciamo più. Spero che le cose fossero ancora come erano. Beh, Roman è troppo concentrato per assicurare che nessuno sia potuto riuscire ancora. Vedi che è impossibile, certo? Beh, dopo l'ultima volta. Roman non ha preso alcune chance. Quindi dovrei riuscire la scuola giusta dietro i luci. Becca, sei riuscita ancora? Oh bella luna. Oh bella luna! Ehm, arrivò subito Direi, direi che è meglio E quando torno ti straccerò a carte Ehm, quindi Roman Oh yeah, Roman è da giù Roman, tesoro Cocciolone Sto arrivando, ehi là, Boyd Hai un nome di merda Joyce No, Joyce, Joyce mi ricorda Lois Lois mi ricorda i Griffin Ma mi ricorda anche Superman Però preferisco Lois dei Griffin Ed ecco qui, Roman Vuoi giocare a bowling? Vuoi fare una partita a bowling, Roman? Oh, oh Ok Awww Ah Well, so what, Roman? Sì, sai perché ti sto dicendo questo, certo? Sì Questo è un po' più grande. No. E poi io... Oh, ok. Prendi questo. Io. Grazie. Il bello del live. Che non è? È nel campionario. Ti darò un po' di minuto. Banana. Oh! Banana! Ha! 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 Che cosa ti dici, io ti appoggio. Sì, sì, sì. Io ti appoggio. Certo. Shell? C'era un piccolo problema. No, non con te. Stephanie ha cercato di scappare. È Stephanie. Ha scappato un sacco di servizi e ha cercato di scappare. Awww. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. È un po' di scappare. È un po' di scappare. Roman vuole che mi faccia. Oh, scusate. Eh. Ok. 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 Vai. È un po' di scappare. È un po' di scappare. È un po' di scappare. Oh, è un po' di scappare. Dove sei che non abbiamo bisogno di andare. Ho. Ma cosa? as long as we're here we're safe the group will protect us but for how long i don't know longer than we'd survive out there besides you know the rules if we try to leave roman will hunt us down we don't have a choice this is who we are now okay okay annazzare l'ho trovato molto di ok ok è simpatico annazzare andarsene oh 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 okay I don't ever want to put you in danger if that means this is what we have to become then it is what it is okay becca si ricorderà di questo ok come I'm sorry me too no quindi sono rimaste lì ok bene quantomeno è una differenza nella trama dato che tecnicamente io ho sempre preso la chiave ahhh quindi la storia di shell è finita manca quella di bonnie e di russell quindi la prossima credo che sarà quella di bonnie e poi russell mmm si direi di si quindi spero che questo video in play sia piaciuto io ne mangio un po' di io corto la banana e noi ci vediamo nel prossimo video in play sempre che ho il vostro REST che ho il vostro che ho il vostro oh yeah